I carabinieri della stazione di San Concordio hanno denunciato per appropriazione in debita un cittadino albanese di 24 anni residente a Lucca, dipendente di una società di spedizione. Parte offesa, una società di viareggio che produce e commercia Maglierian Kashmir, la quale aveva spedito una confezione contenente 6 maglioni nel Regno Unito, confezione però mai arrivata a destinazione. Grazie alle telecamere del sistema di videosorveglianza, i carabinieri hanno accertato che la confezione smarrita era stata prelevata, forse per errore, da un corriere di un'altra società, che una volta realizzato il suo contenuto aveva però deciso di tenerlo per sé anziché restituirlo. I militari hanno così identificato il corriere e nel corso della perquisizione della sua abitazione hanno rinvenuto e recuperato tre degli iniziali 6 maglioni, ciascuno dei quali realizzato su misura, dietro commissione, 1000 euro per capo. I tre maglioni, anche se probabilmente non avranno più sul mercato lo stesso valore, sono stati restituiti all'azienda produttrice, il 24enne invece è stato denunciato.